Sono 48 ore che Edgar Anderson è scomparso. Hanno detto che se lui fosse ancora vivo lo avreste già trovato. Fidati di me. Due ragazzini scomparsi a 11 mesi di distanza e non colleghiamo i casi. Devi stare molto attento adesso. È la mia indagine. Non ti conviene farti dei nemici qui dentro.